Mi chiamo Monica Marchi, sono il delegato all'orientamento e al tutorato di questo dipartimento, con questo nome così lungo e un po' difficile da ricordare, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, che riassume un pochino la nostra anima, che è un'anima molto sfaccettata. In sostanza che cos'è? È un dipartimento di lettere, quindi possiamo dire che siamo un semplice dipartimento di rette e in effetti quando c'è stata l'ascissione della Facoltà di Lettere e Filosofia sono nati i dipartimenti proprio di lettere e il Dipartimento di Filologia, di Critica e Filologia è il Dipartimento di Storia, che è il Dipartimento dei nostri cugini. Quindi è un dipartimento dove si fa letteratura, dove si studia letteratura da diversi punti di vista, quindi sia dal punto di vista della critica letteraria, sia dal punto di vista dello studio filologico dei testi. È un dipartimento però, come forse capirete, potrete intuire, dalle premiazioni dei due concorsi che ci sono oggi, in cui ci sono anche dei docenti, che oltre ad essere docenti a insegnare storie della letteratura, e sono anche degli scrittori, dei prosatori. Il professor Lagomarsini, che presenterà il corso di... la nostra laurea triennale su di letterari filosofici, è uno scrittore di racconti. Abbiamo diversi poeti, abbiamo qua il professor Fo, tra poco arriverà il professor Dalbianco, sono due poeti riconosciuti, abbiamo il professor Mazzoni, e infatti mettiamo a frutto anche la letteratura con dei corsi di scrittura creativa che potrete frequentare nel nostro dipartimento. Però nel dettaglio i nostri corsi verranno presentati dai miei colleghi che seguiranno. ora vi faccio conoscere il nostro direttore, il professor Pierluigi Pellini, che insegna diverse cose. È una figura poliedrica che conoscerete se vi iscriverete al nostro dipartimento di sicuro. Grazie Monica. Benvenute a tutte e a tutti, benvenuti anche a quanti ci stanno ascoltando da casa. Allora, ha già detto tutto la professoressa Marchi. Io aggiungo soltanto che due cose fondamentalmente. La prima che studiare lettere non è mai stata, ma meno che mai oggi è una scelta povera, una scelta di ripiego, una scelta così per chi non sa cosa fare nella vita. No. Studiare lettere, in questo anche ha un senso la critica che sta nel nome del nostro dipartimento, vuol dire acquisire uno sguardo critico sul mondo, uno sguardo consapevole, uno sguardo appunto polivalente, capace di interpretare non solo la letteratura, ma tutti i testi e tutta la realtà che ci circonda, che è sempre più fatta di testi, di testi scritti, di testi mediali, di testi di ogni tipo che uno studente di lettere diventa subito, subito, fin dal primo anno di università, diventa un intellettuale, nel senso una persona capace di leggere la realtà. E anche dal punto di vista lavorativo, oggi più che mai, mentre quando mi sono laureato io nel lontano 94, prima di avere una supplenza a scuola, potevano passare cinque anni, ecco no, ora i nostri laureati bravi, il giorno dopo che prendono la laurea magistrale, se hanno fatto i famosi 24 crediti, che poi per voi forse diventeranno 30, insomma qui le riforme cambiano ogni tre giorni, ma hanno subito una supplenza, anche supplenze annuali, ci sono, questo l'ho già sentita tante volte in vita mia, ma stavolta sembra che veramente si farà, cioè i concorsi ogni anno per entrare nella scuola, per evitare le pletore di precari, quindi la scuola innanzitutto è il mestiere più importante in una società, ed è un mestiere in cui c'è posto. Poi magari non è tanto ben pagato, ma insomma non crediate che gli ingegneri appena lavorati prendano tanto di più di un professore a scuola, insomma sfatate anche certi miti, è un lavoro meraviglioso ed è un lavoro in cui c'è posto. E ci sono tanti altri lavori, lavori nell'editoria, lavori nella comunicazione, lavori nel settore delle relazioni pubbliche, della gestione del personale, spesso anche il privato cerca laureati in lettere perché hanno appunto una mente aperta, perché magari non hanno studiato come si fa un bilancio, ma sono in grado di impararlo, e comunque sono in grado di affrontare diverse situazioni, quindi non è una scelta povera, primo concetto che volevo far passare, secondo concetto studiare, perché studiare lettera a Siena? Siena è una città campus, Siena, adesso voi che siete qui in aula, probabilmente siete qui della zona, la conoscete, non devo fare io a voi l'elogio di Siena, ma magari qualcuno a casa viene anche da lontano, noi abbiamo più della metà dei nostri studenti, circa il 60% dei nostri studenti che vengono da fuori regione, fuori regione non vuol dire Passignano sul Trasimeno, vuol dire Sicilia, Puglia, ma anche Friuli, Lombardia, perché siamo un dipartimento d'eccellenza, riconosciuto, non lo dico io che sono il direttore, riconosciuto dal Ministero, abbiamo questo bollino di dipartimento d'eccellenza che non molti hanno, quindi dal punto di vista del valore, degli studi, della varietà, una piccola università come Siena offre un ventaglio molto ampio anche di approcci diversi appunto dalle letterature comparate, un'apertura anche al mondo delle altre letterature, non solo italianistica, all'antropologia del mondo classico, è proprio una specificità qui di Siena, magari poi qualcuno ne parlerà più in dettaglio, cioè abbiamo una ricchezza e una qualità di offerta culturale nel dipartimento e abbiamo la forza vera di questa città-campus è che gli studenti noi li conosciamo, li conosciamo per nome, ci confrontiamo, ci vediamo a lezione ma anche nei corridoi, c'è un'idea di didattica seminariale, di numeri non troppo piccoli ma neanche troppo grossi che rendono possibile appunto una vera comunità di studio e credo che questo lo dicono così l'esperienza dei nostri ex allievi sia il di più dello studiare a Siena rispetto a, non lo so, prima chiacchieravo con una di voi che stava venendo qui e diceva sono incerto ad andare a Roma, no, non andate a Roma, a Roma siete un numerino, una matricola che il professore forse vi vede in fondo a un'aula, non ha senso, lettere non si studia così, niente si studia così, ma magari per altre materie, che ne so io per, adesso non facciamo esempio, ma per altri tipi di materie può avere un senso, ma lettere no, lettere si studia con un testo in mano intorno a un tavolo e si discute, se no non ha senso. Ecco, quindi, una scelta che non è una scelta di ripiego e una città che è il luogo ideale per studiare. Spero di incontrarvi qui nel prossimo settembre. Grazie, grazie per Luigi e se non vi fidate delle parole del direttore, che però vi assicuro una persona onesta e quindi potete tranquillamente credere a ciò che vi ha detto, potete andare a vedere i video che abbiamo caricato sulla nostra pagina YouTube, dove troverete questi video dei nostri ex studenti che ci hanno voluto lasciare una testimonianza di come hanno studiato da noi, perché hanno scelto il nostro dipartimento, come si sono trovati e quale lavoro ora stanno facendo. Quindi ci sono video di insegnanti, ma ci sono video di persone che in questo momento, per esempio, dirigono la Dante Alighieri a Granada, se non ricordo male. Ci sono persone che lavorano in casa editrice, che lavorano in Garzanti, insomma, persone che hanno trovato posto nel mondo del lavoro e un signor posto di lavoro. Quindi se siete curiosi potete andare a bazzicare nelle pagine YouTube e potrete trovare queste testimonianze. Sempre per farvi capire anche che siamo così, ci piace definirci una grande famiglia, vi voglio presentare il volto della nostra segreteria studenti e didattiche, della nostra segreteria amministrativa, proprio la responsabile della nostra segreteria amministrativa, perché dovrete fare tutta una serie di incartamenti, procedure, per iscrivervi eventualmente qui da noi. e con il saluto di Cinzia Carmignani, che invito ad avvicinarsi qui, vi vorrei dimostrare come siamo un volto umano e quindi se avete dei dubbi, state sicuri che nel giro di pochissimi giorni, a volte di poche ore, avete una risposta, perché la nostra segreteria è molto efficiente e molto premurosa e quindi non dovrete lottare per avere una risposta ai vostri dubbi e alle vostre perplessità. Cinzia, prego. Grazie, Monica. Buonasera a tutte, a tutti, a chi è in presenza e un saluto a chi è collegato, a distanza. Eccolo. È umano? Mi piace? Va bene, dai. Stiamo attenti. Allora, ogni anno è un piacere trovare i ragazzi che appunto vengono alla nostra giornata di presentazione dei corsi di studio e chiaramente ogni anno così troviamo ragazzi che hanno, ragazze e ragazzi che hanno tanta voglia di iniziare un nuovo percorso perché è una nuova avventura uscire dalle scuole superiori, iniziare l'università è entusiasmante. però ci sono anche, sappiamo che avete anche tanti dubbi, anche tante domande, delle paure, così, perché la parte comunque che prevede, insomma, all'inizio di un percorso universitario, quella cosiddetta amministrativa, quella anche meno interessante, che è l'iscrizione, che poi è fare un piano di studi, è ugualmente importante, molto importante, ma a volte può dare anche così un po' di ansia. Ecco, quindi, qui c'è tutto un sistema diciamo di aiuti che vi verranno forniti, spiegazioni che noi potremmo darvi in ogni momento. Noi, con il grande aiuto degli studenti tutor, delle studentesse tutor, che sono sempre veramente al vostro fianco. Per cui, non abbiate alcun timore a rivolgervi agli uffici e, anzi, vi prego di farlo e cercate, vi do questo consiglio, un po' così, da mamma, insomma, cercate di non rimanere indietro, di essere, come dire, attenti anche alle informazioni che vi vengono date, perché nel sito trovate tutte le spiegazioni, tutte le informazioni, quindi imparate anche a consultarlo, il sito del dipartimento, a leggerlo, perché là trovate veramente tutto ciò che vi serve a partire dall'iscrizione che farete, ma poi per quanto riguarda così l'inizio delle vostre lezioni, gli orari delle lezioni, il vostro piano di studi e c'è veramente, le informazioni sono tante, capisco che all'inizio uno possa trovarsi un attimo così disorientato di fronte a un mondo nuovo, però se leggete, se avrete la pazienza di leggere e venite a chiedere in segreteria, avrete veramente tutte le risposte. Ecco, meglio chiedere qualcosa in più che poi non restare indietro, non fare i passi diciamo adeguati che guardate fatti con così con leggerezza vi aiutano a lasciare appunto da parte questi atti burocratici che possono sembrarvi anche un po' così faticosi per potervi dedicare di più ai vostri interessi al vostro studio. Quindi ecco, vi dico solo solo questo e spero che possiate iscrivervi in tanti e che da questa giornata insomma ne richiamiate una che vi piaccia questo quest'ambiente e vi piaccia le persone che poi troverete tutti i giorni che vi reverete tutti i giorni e vi possiamo assicurare insomma che davvero la grande famiglia che abbiamo detto non è retorica insomma noi ci siamo e siamo qui appunto per così per fare in modo che iniziate bene tutto e possiate proseguire bene il vostro percorso se avete delle domande poi alla fine insomma potete assolutamente farne io resto fino alla fine dell'incontro se avete voglia di vedere i nostri locali dove sono gli uffici o le aule potete tranquillamente farlo e niente quindi buona immatricolazione al nostro dipartimento grazie Cinzia prima di procedere con la presentazione dei docenti che presenteranno i nostri corsi di laurea cioè il corso di laurea triennale in studi letterari filosofici e due corsi di laurea magistrali in lettere moderne e lettere classiche vi vorrei presentare magari le studentesse tutor perché sono state citate più volte quindi abbiamo Alexia la prima ragazza che trovate alla mia sinistra Federica Alice che si è appena laureata e quindi le facciamo anche gli auguri in diretta Sara e Giorgia che è invece una studentessa della triennale tutte le altre quattro ragazze sono studentesse della magistrale poi mancano altre studentesse tutor che si sono laureate che in questo momento non sono presenti ma che porteranno avanti il loro mandato sino a ottobre sono un punto di riferimento importante per il nostro dipartimento spesso sanno molte più cose di noi docenti soprattutto le cose un pochino più tecniche loro le conoscono bene quindi se avete dei dubbi potete sicuramente scrivere a loro come primo come primo punto di riferimento poi eventualmente saranno loro a indirizzarvi agli uffici o ai docenti ci tengo però a dirvi anche che tra pochissimi giorni sul sito sul portale dell'orientamento di Unisì orientarsi verranno pubblicati i nostri colloqui di orientamento quindi la nostra disponibilità per dei colloqui di orientamento e quindi potete contattarci in qualsiasi momento per un colloquio personale e ora passerei la parola ai miei colleghi prima di tutto a Claudio Lagomarsini che è docente di filologia romanza che insegna sia sulla triennale sia sulla magistrale che presenterà il corso di laurea triennale prego Claudio grazie mi smaschero anch'io tanto buonasera a tutti e a tutti e grazie di essere venuti qui o di esservi collegati e collegati mentre pensavo così ieri nei giorni scorsi a che cosa dire per introdurre il corso triennale ho provato a fare questo esperimento cioè a rimettermi nei panni di un diciottenne il diciottenne che sono stato che si è trovato a dover prendere questa decisione che cosa studiare a quale corso di laurea triennale iscrivermi e ricordo ora sono passati vent'anni nei diciannove anni e ricordo che quando manifestavo ai miei insegnanti ai miei genitori ai miei amici questa volontà questo desiderio di iscrivermi a un corso di lettere nel mio caso lettere moderne tutti dicevano bello interessante sicuramente ti piacerà però poi dopo che cosa fai quella è la perplessità che è un po' rimasta e qualcosa è stato detto dal direttore io vorrei sottolineare che rispetto a diciannove anni fa a vent'anni fa il mondo è radicalmente cambiato viviamo sempre di più e un diciottenne una diciottenne vive molto del suo tempo in una sfera che non è più quella di vent'anni fa cioè nel mondo digitale e questo mondo è una macchina che nel bene o nel male molto spesso anche nel male si alimenta di contenuti e quindi si sente spesso questa espressione ed è anche una professione quella di fare contenuti c'è bisogno di inserire dei contenuti c'è una figura professionale che è il copywriter che è la persona che fa contenuti per un sito web per un portale per un progetto informativo sul web e così via è un'espressione che ogni volta poi io sono un filologo mi occupo di parole però è un'espressione che mi fa un po' drizzare i capelli fare contenuti e troverei a riformularla così per fare dei contenuti bisogna avere dei contenuti e quello che cerchiamo di insegnarvi nel nostro corso è come avere dei contenuti avere dei contenuti introduttivi e poi avere dei contenuti specialistici sempre più approfonditi io provo a dare qualche informazione sulla triennale poi i colleghi la collega vi parleranno anche del livello più approfondito il nostro corso triennale si chiama studi letterari e filosofici è un corso che appartiene qui esaurisco subito la burocrazia ai corsi di laurea in lettere quindi alla fine la figura che andiamo a formare è quella di una laureata o un laureato in lettere e si articola in tre percorsi in tre curricula che corrispondono ad altrettante figure che già vanno a specializzarsi quindi dal punto di vista generale il tipo di contenuti che noi invitiamo a acquisire è un contenuto letterario diciamo così quindi al centro di questi tre percorsi se si può fare un discorso d'insieme di ciò che hanno in comune i tre vari curricula di cui parlo tra un istante è quello di sviluppare delle conoscenze e delle competenze nell'ambito della letteratura soprattutto la letteratura che può essere analizzata da vari punti di vista e viene analizzata sviscerata come esperienza culturale da vari punti di vista da un punto di vista linguistico quindi imparate abbastanza approfonditamente già dalla triennale le basi della linguistica della storia della lingua italiana soprattutto delle lingue europee sono previsti degli esami di lingue forse non è stato detto prima ma l'università di Siena il nostro dipartimento ha attiva una convenzione anche con l'università per stranieri di Siena e questo vi consente se lo desiderate di avere un ventaglio più ampio per lo studio delle lingue straniere non solo quelle diciamo così convenzionali più frequenti ma anche lingue più peregrine c'è un corso di catalano per fare un esempio e poi vi dà anche la possibilità di continuare ad affrontare lo studio della letteratura da altri punti di vista ancora più specialistici tecnici e nuovi rispetto a quello che potete aver visto durante la vostra formazione liceale cioè da un punto di vista filologico io insegno appunto filologia e il nostro dipartimento si chiama filologia e critica e poi dal punto di vista della critica dello diciamo dello studio approfondito dell'esperienza letteraria della sua collocazione in un contesto culturale e anche nella comparazione di varie esperienze letterarie di vari fenomeni di vari generi di vari correnti attive in momenti diversi e in contesti diversi della storia europea e più in generale della storia mondiale ma vado insomma a concludere perché poi le cose da dire sarebbero tante parlandovi di questi tre percorsi a cui accennavo prima il primo percorso è un corso modernistico è un corso per capirci meglio chiamiamolo come lo si chiamava un tempo lettere moderne e allora in questo ambito andrete ad affiancare a contenuti delle letterature soprattutto moderne la letteratura italiana le letterature europee le lingue europee come dicevo prima anche uno studio linguistico e filologico e poi ci sono i consueti insegnamenti che vi aiutano a posizionare e a mettere queste conoscenze nell'ambito della nostra storia quindi ci sono degli insegnamenti di storia di filosofia di storia dell'arte e così via il secondo percorso è un percorso invece di lettere classiche o lettere antiche a seconda di come preferite chiamarlo e va a formare la figura di una o di un classicista e allora l'asse centrale di questo quest'altro percorso della laurea triennale sono piuttosto le letterature antiche quindi la letteratura greca e latina e la conoscenza anche delle loro culture sono previsti anche insegnamenti nell'ambito ovviamente della storia antica del pensiero antico dell'archeologia verrà poi forse sottolineato dopo dal professor Faux forse qualcuno di voi già lo sa qui a Siena è particolarmente attiva l'antropologia del mondo antico c'è un centro di ricerca molto importante il centro AMA antropologia del mondo antico che si approccia allo studio delle civiltà della nostra antichità soprattutto lo ripeto la civiltà greca e latina da un punto di vista antropologico è un centro di eccellenza stavo per dire italiano ma direi forse mondiale e poi c'è un terzo percorso che è il percorso il curriculum filosofico per essere chiari e onesti bisogna dire che si tratta di un percorso situato all'interno di una laurea in lettere quindi alla fine burocraticamente siete dei laureati in lettere ma con un approfondimento e quindi con una miscela diciamo di informazioni letterarie e di informazioni contenuti di ambito filosofico e quindi ci saranno i consueti insegnamenti di filosofia di storia della filosofia e di storia del pensiero e della mentalità ecco questi sono un po' i nostri percorsi che cosa si fa alla fine di una triennale ma in realtà una laurea triennale può essere anche spendibile in questo mondo così avido di contenuti una persona che arriva alla fine di questi tre anni in modo brillante se lo desidera se si stufa di studiare speriamo di no può spendere queste conoscenze già in questo mondo del lavoro naturalmente quello che mi sento di consigliare quello che forse vi consigliamo tutti è di continuare a studiare potete farlo qui a Siena se lo volete oppure potete professionalizzarvi abbiamo anche sono attivi dei master di primo e di secondo livello magari di questo si parlerà dopo ma il nostro consiglio è di continuare a studiare nessuno vi tiene con le catene se volete andare da altre parti saremo pronti a darvi consigli migliori rispetto a ciò che volete diventare a chi volete diventare se invece vorrete restare a Siena saremo contentissimi ed è anzi la scelta consigliata perché imparerete a conoscerci durante la triennale e avrete certe conoscenze di base che vi saranno utili per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze alla laurea magistrale e lascerei dunque la parola ai colleghi per illustrarvi il dopo quello dopo il percorsi che vi ho che vi ho appena illustrato per capire che cosa avviene dopo qual è la fase 2 grazie Claudio prima di passare la parola al professor Fog volevo dirvi che ai colleghi ho chiesto di non darvi informazioni troppo tecniche che ho chiesto invece di affrontare sono argomenti che ho chiesto di affrontare alle studenti istitutor quindi so che vi domanderete come funziona per la lingua latina come funziona per il test d'accesso di queste cose parleremo dopo e poi se vi rimarranno dubbi siamo qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande poi magari dopo quando facciamo il tour dei locali se volete possiamo anche parlarne a quattro occhi ora passo la parola ad Alessandro Fo grazie buongiorno a tutti connessi e presenti mi chiamo Alessandro Fo insegno lingua letteratura latina per lo più nella triennale ancora per poco perché grazie al cielo sono vicino alla pensione ma tornando anch'io indietro come Claudio ai tempi in cui feci la vostra scelta io volevo fare il cantautore mi passava nemmeno per la testa di fare il latinista mi innamorai strada facendo facendo la maturità di un certo poeta sconosciuto ai più posso anche dire che si chiama Rutilio Namaziano e la cosa muore lì e questo amore improvviso questo libro da conversione che mi attendeva appostato sul mio percorso ha fatto sì che cambiassi idea piano piano mi accostassi all'iscrizione a lettere e poi franassi nell'antichità franare nell'antichità è franare ma è anche bello io mi ci sono trovato molto bene lo raccomanderei vivamente chi fa la triennale e poi la magistrale in studi classici naturalmente ha soprattutto a che vedere con il latino e con il greco e qui già si pone un problema perché molti non vengono da studi classici intesi come liceo classico e si possono trovare spaventati chi si spaventasse può guardare per l'appunto Alice che si è laureata ieri quella ragazza splendida sotto e anche sopra la maschera nera che è nell'angolo che si è laureata con una tesona in letteratura greca pur venendo dallo scientifico dopo essersi scritta per l'appunto lettere classiche quindi lei poi ci darà la sua esperienza anche come studente che ha fruito di uno dei tanti spazi di studio all'estero che il nostro dipartimento offre e spero che attutirà il timore di affrontare il greco così come anche quello di affrontare il latino io come vedete anch'io c'è una faccia un po' da buono mi accusano anzi di essere troppo buono a volte e quindi non aspettatevi grosse bocciature la comprensione per naturalmente le vaste sacche di debolezza che tutti ci connotano c'è però c'è anche il desiderio di approfondire di conoscere meglio le materie che andiamo a studiare ripeto chi affronta lettere classiche e soprattutto poi alla magistrale approfondisce la letteratura latina e la letteratura greca come grandi archetipi di temi di modelli linguistici di modelli concettuali della nostra cultura e penso che non avrà a pentirsene nella magistrale si approfondiscono anche zone limitrofe per esempio si può prendere una fuga verso la Grecia bizantina o verso il medioevo latino a seconda di quelle che possono essere o verso addirittura anche lingue che non sono latino e greco c'è un mondo culturale nell'Egeo che e qui chiamo il mio collega Luca Bombardieri vieni a fare anche tu un po' di propaganda che non è strettamente legato alle materie che normalmente ci aspettiamo ma che può riservare delle sorprese e che dire sono studi che appassionano sono studi condotti come diceva prima il direttore sempre con un rapporto molto stretto fra docente e discente abbiamo molte occasioni di incontro di scambio e quindi credo che sia effettivamente una scelta che da questo punto di vista rimunera tanto sulle pratiche diciamo così sui test d'accesso e anche sulla sui sbocchi di insegnamento all'estero Erasmus Elan e tutte le altre cose ci ragguaglieranno presto le nostre incantevoli tutor intanto l'incantevole Luca Bombardieri nostro altro professore che insegna in una magistrale tu soprattutto quindi puoi meglio di me dire i segreti meglio non credo grazie grazie Alessandro questo è totalmente improvvisato chiedo scusa a chi ci coordina e mi è stato chiesto la frana a cui accennava il professor io l'ho vissuta completamente cadendo molto in basso fino nella preistoria diciamo nei livelli molto bassi della grecità ma vorrei testimoniarvi come la ricchezza di questo nostro corso magistrale stia proprio in questa ampiezza di interessi e di vedute la grecità è un ampio contenitore che non si limita alla letteratura greca ma è un mondo molto più ampio che appunto dalle sue più antiche radici minoiche e micenei arriva fino al mondo bizantino e qua a Siena abbiamo questa possibilità di offrirvi questa diciamo questa scala diacronica molto ampia un altro elemento secondo me molto interessante per chi studia a Siena per chi inizierà a studiare a Siena è la possibilità di fare percorsi ed esperienze anche sul campo noi abbiamo un progetto di ricerca a Cipro per esempio che è un progetto ampio che prevede appunto varie fasi e vari periodi di interesse cronologico e coinvolge me e coinvolge il mio collega il professor Braccini e altri colleghi di altre università quindi questo giusto per dirvi che la magistrale non è un liceo 2.0 ma è un'esperienza nuova alla quale si accede con un percorso appunto lungo con una serie di passi che mi auguro che farete qua a Siena riprendo perché mi sono reso conto che mi sono dimenticato di dire due cose importanti primo il tanto evocato centro di antropologia del mondo antico tenete presente abbiamo questa grande specificità dello studio del mondo antico con l'antropologia e scusate mi ero scordato che ci sono le telecamere che ci devono riprendere e la seconda è che un altro importante filone di studio che ci connota come classicisti di questa di questo dipartimento è quello della fortuna del mondo classico fortuna nel mondo della musica per esempio il professor Simone Beta così come nel mondo della letteratura e molti di noi praticano questo indirizzo di studi quindi direi un'offerta che va riccamente al di là del puro e semplice apprendere gli elementi del latino del greco e della relativa letteratura dilatandosi verso un'offerta culturale di grande respiro scusate se vi abbiamo portato via un po' di tempo e ora ripasso la palla alla nostra o direttamente a Carla Francellini la nostra docente d'inglese che parla della laurea magistrale in moderne grazie senza maschera intanto benvenuti a chi è collegamento e chi è presente io insegno della letteratura angolo-americana in questo dipartimento da diversi anni anche come contrattista è stata un'esperienza bellissima perché io sono di Roma e quindi testimonio quello che i miei colleghi vi hanno già detto cioè c'è un clima molto particolare quindi studiare lettere equivale a questa frana bellissima di cui avete già sentito parlare ma studiare lettere assieme è una frana anche particolarmente affascinante per questo contatto con gli studenti io vengo da una grande università come diceva il nostro direttore dalla Sapienza per l'appunto in cui veramente si ha un po' la sensazione di essere dei numerini poi naturalmente ci sono le eccezioni però qui il valore aggiunto è chiaramente la possibilità di incontrare i docenti e anche i colleghi insomma in corridoio o come anche nella città che per l'appunto è città-campus dunque vi presento il nostro corso di laurea magistrale e lettere moderne dirò anch'io proprio due cose dal punto di vista insomma dell'organizzazione ovviamente è un corso di laurea e lettere che prevede due curricula il primo si chiama filologico linguistico e letterario e quindi prevede un approfondimento ovviamente soprattutto sulla lingua italiana sulla storia della lingua italiana sulla filologia e ovviamente sulle letterature il secondo invece è proprio letterature straniere nel quale si inserisce il mio corso per l'appunto di letteratura angloamericana è un diciamo così si tratta di due curricula si tratta di due curricula diversi ma ovviamente che si sovrappongono in molti momenti quindi questa è anche la ricchezza io credo della decisione di venire a studiare nel nostro ripartimento cioè la possibilità anche di avere a che fare con docenti ricerche seminari presentazioni io insegno anche al master in traduzione letteraria di cui vi parlo tra poco che ovviamente interessano tutti e che sono eventi a cui tutti insomma tendiamo per quanto possibile a partecipare quindi intanto io direi studiare a Siena scelta di qualità e scelta di prestigio soprattutto in un dipartimento che peraltro è ancora dipartimento d'eccellenza speriamo di esserlo ancora a lungo insomma tra l'altro e la seconda cosa importante che mi sono appuntata qui per voi è appunto la pluralità dei metodi di insegnamento e anche l'integrazione tra la letteratura italiana e le letterature europee straniere non solo europee straniere direi che intanto la varietà dei metodi nasce dal fatto che molti dei nostri docenti sono anche scrittori poeti traduttori e questo chiaramente qualifica la loro offerta in una maniera molto specialistica molto diversa insomma e poi la possibilità di mettere sempre in relazione la letteratura italiana che costituisce indubbiamente insomma la base appunto di quei contenuti importanti cui faceva riferimento il collega Lagomarsini con le letterature straniere questo significa avere a disposizione moltissimi corsi di lingua e letteratura straniera soprattutto dopo la confluenza del corso di Arezzo quindi avete lingue fino al cinese ad esempio alle quali insomma potete attingere per le vostre scelte poi di esami e mi sembra anche importante sottolineare per voi questa osmosi che a me apparsa anche insomma quando sono entrata in questo dipartimento come forse l'elemento più caratterizzante cioè l'osmosi tra la letteratura e la pratica della letteratura non è soltanto studiare ma anche vederla in pratica non soltanto attraverso le figure che vi dicevo prima di scrittori poeti e traduttori ma anche proprio attraverso quell'attività a cui ha fatto riferimento il nostro direttore del seminario cioè del sedersi intorno a un tavolo con un testo da affrontare da sviscerare da analizzare e questo è un lavoro che si declina nei vari insegnamenti che voi troverete insomma qui a Siena e infine quarta ragione ma non ultima tutt'altro è l'internazionalizzazione che è un punto forte del nostro dipartimento intanto è possibile per gli studenti della magistrale conseguire un doppio titolo con l'università di Sorbonne Nouvelle giusto e quindi questa è una occasione tanto unica eppure molto molto spendibile naturalmente significa avere un doppio titolo e insomma noi abbiamo modo di verificare tutti i giorni in maniera tragica quanto sia importante insomma questa coesione europea e chiaramente avere la possibilità ad un doppio titolo è una cosa grossa tra l'altro vi invito veramente andare a vedere sul nostro canale di Youtube i video delle ragazze dei ragazzi che hanno fatto esperienza all'estero che veramente riportano testimonianza di una crescita enorme non soltanto sul piano di quella acquisizione di contenuti di cui parlavamo prima ma proprio personale perché insomma come dicevamo un po' tutti la laurea in lettera era prima una scelta molto come dire anche criticabile no? in realtà è verissimo che c'erano dei problemi sicuramente in passato con l'occupazione ma la scuola resta sicuramente un'uscita privilegiata io credo sempre in crescita me lo auguro anche ma dal punto di vista proprio personale è ovviamente un percorso di enorme crescita proprio culturale di apertura anche mentale infine vi volevo tornare un po' su questo ambiente senese che è rassicurante nel senso che ci si muove con facilità nella città e nelle varie iniziative a noi spesso capita di finire la lezione a volte ecco come quest'anno io ho lezioni anche fino alle 6 alle 8 e poi di andare insieme a vedere uno spettacolo teatrale la città è piccola quindi questo lo permette e questo è un punto importante insomma che non che vi invito a considerare con molta attenzione infine l'organizzazione della didattica che è puntuale estremamente precisa la segreteria come vi ha detto la nostra amica Cinzia è assolutamente a disposizione degli studenti in una maniera amichevole e l'organizzazione della didattica è puntuale fatta in maniera tale che voi possiate frequentare con facilità tutto quello che deciderete insomma che avrete bisogno di frequentare gli ambienti li vedete poi insomma vi invito a farvi guidare dalle nostre bravissime bellissime tutor nella insomma negli ambienti della facoltà sono veramente accoglienti le aule anche insomma sono molto belle e per concludere proprio un piccolo cenno al post lauream di cui non parleremo in maniera diffusa o se avete domande ci possiamo tornare alla fine del percorso di laurea magistrale è possibile accedere a un dottorato di ricerca in filologia e critica che è un dottorato internazionale tra i primi in Italia quindi anche questa è una cosa importantissima e poi abbiamo il master in traduzione letteraria editing dei testi nel quale io stessa insegno e è un master che esiste da molti anni con una piccola pausa e poi vittoriosamente insomma abbiamo ripreso che ha formato molti traduttori importanti insomma di testi che troviamo ecco in biblioteca in libreria ancora oggi ora io sarò insomma chiuderei qui sono a disposizione anche io rimango fino alla fine dell'incontro per qualsiasi domanda e vi aspetto vi aspetto a settembre spero che vorrete meditare di insomma di regalarci questi anni che sicuramente noi sapremo impreziosire grazie grazie mille Carla io ora passerei la parola alle studentese tutor che affronteranno qualche tema un pochino più tecnico quindi non so chi viene per prima a parlare qua quindi Federica e Alice Alice come ha già anticipato il professor ha fatto anche i corsi di affiancamento alla didattica del greco nonostante provenga da un liceo scientifico io non lo sapevo lo scopro ora anche se ero in commissione quando ti abbiamo scelta ha fatto i corsi di affiancamento di letteratura di lingua latina e ora immagino che parlerà forse dei test è dell'esperienza Elena perché è stata anche all'estero quindi passo prima la parola a Alice o a Federica Federica prego allora intanto buongiorno a tutti e benvenuti io vi vorrei dare qualche informazione un po' più tecnica soprattutto per il percorso di prematricolazione e immatricolazione ai nostri corsi intanto sono già aperte le iscrizioni quindi è possibile già svolgere i primi test sia di lingua e letteratura latina sia di italiano fino al 25 al 18 luglio avete la possibilità di usufruire di questa diciamo anticipazione e quindi questa prematricolazione e invece dal 25 luglio è possibile poi procedere con la vera e propria immatricolazione in che cosa consiste la prova di italiano è il TOLC è una prova nazionale che adesso si può anche svolgere da remoto e consiste in alcune domande generali che permettono insomma di accedere in università nei nostri corsi qualora ci siano delle difficoltà o la necessità di approfondire alcuni aspetti sia noi studentessi tutor con alcuni corsi ma soprattutto poi ci sono dei corsi tra dei nostri professori è possibile recuperare e soprattutto questo vale anche per le lingue come il latino e il greco sono consigliati appunto sia il test di latino all'inizio durante appunto la fase di iscrizione e soprattutto c'è la possibilità anche per chi volesse approcciarti per la prima volta a queste lingue di incominciare da zero sia con il nostro aiuto ma soprattutto con l'aiuto di corsi specifici che sono tenuti dai nostri docenti anche in storia greca e storia romana quindi diciamo che vi è un aiuto costante e continuo da parte di tutti buonasera io invece volevo esporre brevemente le possibilità che avete di approfondire i vostri studi le vostre passioni anche all'estero e sono attivi molti programmi di scambio infatti che coinvolgono il nostro dipartimento tra questi il cosiddetto progetto ELAN ELAN è una sigla che sta per European Liberal Arts Network e si tratta di un progetto di studio presso un'università una delle università convenzionate con l'università di Siena specificamente dedicato appunto agli studi umanistici che vi permetterà quindi di proseguire il vostro percorso e anche eventualmente di fare la vostra ricerca tesi io personalmente ho svolto questo periodo di scambio presso l'università di Heidelberg e ho deciso di farlo in magistrale così che appunto insieme a una serie di esami che ho svolto presso l'università tedesca ho potuto anche portare avanti la mia ricerca tesi approfondire dal punto di vista bibliografico una serie di aspetti molto importanti e chiaramente anche migliorare le mie abilità nel campo insomma dello studio dell'approfondimento della lingua tedesca quindi ecco avete anche tutti gli strumenti informatici a disposizione per approfondire queste informazioni questi aspetti tra cui appunto anche la pagina dedicata proprio nello specifico al progetto ELAN e quindi vi consiglio eventualmente di dare di dare un'occhiata e se avete bisogno siamo qui anche per questo vorrei aggiungere che proprio da un punto di vista delle esperienze di scambio Erasmus con il progetto ELAN è possibile studiare le lingue straniere nella nostra università grazie al centro linguistico di Ateneo in modo del tutto gratuito ci sono numerosissime scelte tra insomma dall'inglese il francese ma il tedesco ma anche il russo e il portoghese quindi diciamo che il nostro percorso di letteratura straniera è sempre affiancato da quello linguistico che poi favorisce lo scambio anche con la ricerca con altri professori in altri ambienti grazie grazie ragazze io direi direi di lasciare magari prima una decina di minuti di spazio alle domande e poi dopo si passa alla seconda parte del nostro pomeriggio con le premiazioni quindi se sia da casa sia in aula ci sono delle domande siamo qui pronti per rispondere passerei quindi alla premiazione la prima la prima premiazione che è in programma è quella del concorso letterario che abbiamo intitolato raccontarsi siamo alla nostra seconda edizione concorso letterario che ci è venuto in mente a me al professor Braccini tre anni fa qualche mese prima del covid e ci è sembrato un bel modo per farci conoscere appunto e per orientare e far capire come si studia cosa si studia nel nostro dipartimento quindi abbiamo pensato di coinvolgere le scuole superiori e la prima edizione e la prima edizione del concorso si è tenuta si è conclusa l'anno scorso e ha avuto come tema appunto le utopie le distopie perché ci sembrava giusto intervenire intervenire e far riflettere ragazzi su questo argomento perché sappiamo bene ciò che è successo quest'anno abbiamo proseguito con questo filone che intende un pochino rompere con i temi classici della letteratura e dare libero spazio alla fantasia e quindi abbiamo deciso di scegliere come argomento cosa accadrebbe se sequel e crossover dei capolavori della letteratura qui in aula ci sono diversi docenti che hanno partecipato alla giuria del concorso ci siamo divertiti molto a leggere questi racconti siamo rimasti anche piacevolmente colpiti non solo dal numero dei racconti che ci sono pervenuti ma anche dal modo con cui gli insegnanti hanno lavorato con i ragazzi e siamo rimasti anche piacevolmente colpiti dalla scrittura dei ragazzi perché onestamente tutti i racconti che ci sono pervenuti erano scritti molto bene e questo è una premessa essenziale poi per chi intende scriversi a qualsiasi università devo dire non solo a lettere il concorso è stato per noi molto positivo e ho visto che è stato apprezzato anche dall'insegnante delle scuole superiori perché alcune scuole che hanno partecipato l'anno scorso poi hanno ripartecipato anche quest'anno abbiamo deciso non solo di un po' come l'anno scorso non solo di premiare i primi tre classificati ma anche di dare un premio selezione perché veramente il materiale arrivato pervenuto era molto buono quindi so che alcuni dei premiati e dei selezionati sono presenti anche in aula quindi ci terrei a dare loro la pergamena e l'onora Cecchini vincitrice del premio selezione con il racconto Criseide Apollo è morto del liceo scientifico musicale coreutico Guglielmo Marconi di Pesaro Giulia Ghezzi il tempo del coraggio invece è presente quindi complimenti Giulia questa è la sua pergamena complimenti per il lavoro svolto Nicola Mencarelli il ritratto del buio liceo classico Lorenzo Rocci Farenzabina Rieti che credo sia collegata poi abbiamo Serena d'Alessandro l'Orlando Pensoso liceo classico Isis Pantini Pudente di Vasto in provincia di Chieti Alice Sebastiani Cosimo Totterra del liceo classico Lorenzo Rocci Farenzabina Rieti e poi Francesco Martini la disciplina di Penelope Polo Tecnico Franchetti Salviati città di Castello Perugia che invece è presente complimenti la sua pergamena grazie mille per aver partecipato e ora veniamo ai vincitori perché abbiamo la terna dai finalisti ma ancora non si sa l'ordine dai finalisti quindi partirei dal della terza classificata la terza classificata è Caterina Mazzucco il piccolo Principe sulla Luna dell'istituto di istruzione superiore Cattaneo Mattei Plesso Mattei con selve Padova complimenti a Caterina Mazzucco Caterina che verrà a casa anzi a scuola una targa e il premio della terza classificata che consiste in un po' di gadget del nostro Ateneo secondo classificato Alessandro Marletta con Acab incontra Nemo del liceo scientifico Isis Magrini Marchetti di Gemone del Friuli Udine complimenti ad Alessandro grazie complimenti e poi abbiamo Giulia Argento racconto di una notte dei suoi occhi chiari del liceo scientifico Enrico Fermi di Massa che è collegata perché so che non è riuscita a venire nonostante il suo desiderio fosse quello di essere qui con noi complimenti Giulia grazie grazie mille però le premiazioni non finiscono qua perché abbiamo ci teniamo a premiare anche la scuola che ha partecipato con più numero di con numerosi racconti anche con racconti di buon livello che è la scuola di l'Isis Magrini Marchetti Gemone del Friuli Udine quindi anche la scuola di Gemone del Friuli ormai è una nostra amica perché anche l'anno scorso ha partecipato a un grande entusiasmo riceverà la targa e complimenti anche ai professori che hanno guidato e in particolare mi piace nominarli si tratta della della professoressa Antonella Capparotto della professoressa Cristina Minizini e della professoressa Marinella Ceritti anche loro riceveranno un piccolo omaggio dal nostro Ateneo complimenti e grazie per aver partecipato ora invece passerai la parola al professor Dalbianco che ha seguito il concorso di facoltà di poesia e che passerà alla premiazione del dei tre finalisti sì come c'è raccontarsi quest'anno abbiamo pensato bene che siccome nel nostro dipartimento ci sono un tot di poeti eh abbastanza accreditati insomma in giro per il mondo abbiamo pensato bene che di affiancare quest'altro premio dedicato specificamente alla poesia ma non riservato alle scuole bensì agli a tutti gli Atenei italiani non solo ai dipartimenti di letteratura ma anche agli Atenei tutti quindi ingegneri scuola infermieri qualunque cosa è stato un esperimento abbiamo fatto una fatica bestiale perché sono arrivate 482 partecipanti ognuno mandava un file con circa 5 poesie quindi è stato un lavoraccio che non so se avremmo voglia di rifare adesso ci dobbiamo riposare un attimo poi decidiamo una delle cose più complesse è stata la divulgare questa faccenda perché sembra strano ma non c'è nessun coordinamento interateneo quindi non è che tu dici ragazzi io faccio questo concorso voi divulgate in tutti gli Atenei no non esiste non c'è nessun canale di questo tipo quindi è stata mandata una mail ai colleghi che alcuni dei quali hanno funzionato bene hanno fatto diramare in tutto il loro Ateneo questa notizia alcuni hanno funzionato meno bene nel senso che hanno fatto diramare la faccenda presso allievi loro o presso il dipartimento dove lavorano che ovviamente essendo colleghi nostri sono docenti di letteratura in genere quindi prima di passare alla premiazione vero e proprio qua ci sono i tre finalisti uno dei quali i quali riceveranno 500 euro a testa e uno di questi tre sarà il vincitore assoluto in realtà hanno vinto tutti e tre poi dovevamo scegliere uno che vinceva e ne abbiamo scelto uno di questi tre che prenderà altri 500 euro questa faccenda del premio in denaro mi sembra una cosa normale ma non lo è per niente perché far sì che un Ateneo ti permetta di erogare dei premi in denaro è stato un lavoro di un paio di mesi delle nostre segreterie credo litigate con gli uffici di Ateneo quindi insomma è tutto abbastanza pionieristico che altro volevo dire prima di passare la parola a Emanuela Carbet che fa parte della giuria assieme a me Stefano Dalbianco Alessandro Fo e a Monica Marchi quello che volevo dire ecco era brevemente che appunto divulgare è stata dura e quindi non abbiamo raggiunto tutti gli Atenei abbiamo raggiunto secondo me un due terzi di Atenei italiani ovviamente non tutti non tutte le materie non tutte le discipline però adesso Emanuela forse ci dice qualcosa in più buongiorno a tutti e a tutti qualche dato dal momento che hanno partecipato moltissimi studentesi moltissime studentesi e studenti abbiamo avuto 481 partecipanti e abbiamo raccolto questi dati grazie a un piccolo database che hanno curato le studentesse tutor in particolare la dottoressa Rachele Poddo e quindi qui vedete le statistiche per età e le gli Atenei di provenienza naturalmente hanno partecipato soprattutto studentesse e studenti dell'Università di Siena ma le provenienze sono di 31 Atenei in particolare dall'Università di Perugia dall'Università di Bologna di Padova di Pavia e di altri Atenei queste sono le statistiche dei partecipanti e non c'è una variazione significativa ce lo chiedevamo col professor Stefano Dalbianco tra studentesi e studenti che hanno partecipato e all'Università di Siena hanno partecipato oltre alle studentesi e studenti del Diffla ma anche altri dipartimenti e non solo dipartimenti umanistici anche la provenienza dei partecipanti è molto è molto varia in una prima fase la giuria ha selezionato un gruppo di partecipanti e poi è avvenuta appunto una seconda selezione più ristretta di partecipanti dalla quale poi è uscita la rosa dei tre candidati e solo per curiosità vi mostro le parole che sono state più utilizzate nel corpus dei 481 partecipanti anche per sapere un po' le parole più utilizzate all'interno di un piccolo campione di una generazione quindi abbiamo calcolato sempre con l'aiuto di questo di questi dati raccolte dalle studentesse abbiamo calcolato le frequenze quindi lascio la parola a Stefano allora adesso prima di far venire qui l'amico e collega Alessandro Fo volevo solo ringraziare tanto le studentesse tutor e soprattutto Rachele Puddu che senza le quali non ce l'avremmo fatta a fare tutto ciò io passo la parola ad Alessandro che chiamerà qui i tre finalisti di cui leggeremo anche le motivazioni di questo premio brevi e chiediamo ai finalisti che sanno già di essere loro di prepararsi una poesia da leggere ok bene allora per non affollare troppo un assembramento la scrivania li chiamiamoli uno alla volta in ordine alfabetico e la prima è Ilaria Crocchini qui dell'Università di Siena il nostro bivaio locale Ilaria prima che lei si accinga a leggere la sua poesia passerò il microfono a Stefano che leggerà la motivazione che le abbiamo riservato prima però volevo esporvi i meravigliosi gadget del dipartimento che offriremo ai tre un bellissimo zainetto bianco una maglietta della misura giusta una borraccia perché gliel'abbiamo chiesta una borraccia ecologica e un librettino nella legislazione da occupare per scriverci le poesiole motivazione passiamo la parte un po' più seria scusa motivazione è questa nelle brevi prose calibrate e nei versi presentati Ilaria Crocchini costruisce dei congegni formali di rara eleganza e profondità lo fa come dal nulla a partire da situazioni e sensazioni in apparenza poco rilevanti e sul filo di una impeccabile restituzione del parlato naturale un'inquietudine profonda e un mistero sottile sono in agguato fra le righe se Ilaria vuole leggere una poesia grazie posso levarmi la mascherina quando avvicino la bocca e il naso alla finestra di camera si crea una patina più sottile del vetro ci sono due schermi tra me e il mondo tra me e la strada tra l'area dentro l'area della stanza che è dentro di me e poi è la stanza e l'area di fuori che è di tutti che è di te che passi e che aspiri che contamini e che rigetti e davvero le particelle non si toccano ai lati del vetro anche se adesso la condensa del respiro si è sciolta perché basta una lacrima per spezzare l'illusione che sia meglio vedere le sfumature che i confini netti allora anche noi diamo delle pergamene solo che le pergamene non sono pergamene e si vede che è il nostro primo anno quindi qui c'hai la motivazione scritta e c'è scritto finalista e vabbè se andrà meglio prossima volta ah sì adesso raccatta tutti i gadget ecco vai scusate ogni tanto devo fare il giullare che io bene bene il prossimo dei tre finalisti è Diego Franciosi dell'Università di Pavia mi dicono che è della scuola della vecchia scuola di filologia musicale di paleografia e filologia musicale dove appunto ho cominciato la mia brillante carriera bene allora sono particolarmente contento anche di questo e le passo il microfono per la lettura dopo aver dato lettura a mia volta della motivazione i testi di Diego Franciosi mostrano un'acuta capacità di osservazione del cito arcano agitarsi della vita evocando con efficace sapienza formale fra verso libero e strutture metricamente più elaborate ora paesaggi urbani e di vacanza gli eserciti della balneazione con i loro effimeri vessilli alla marena ora per brevi e i castici tocchi l'universo di un poeta amato a lei la lettura però qui già ero fuori ripresa non seguo le mie orme allora io leggo una poesia che si intitola Robby Espierre sieda con austera posa sull'alto trono il sole muovano ai nati i lidi gli eserciti della balneazione levino al cielo con ardore gli effimeri vessilli alla marena scena seconda accomodi la testa sulla gualcita ghigliottina la prole bizzarra dell'utopia presto si torni ai giochi d'acqua e così sia grazie fantastica la borsa con i gadget è lì è lì è lì è lì non sia mai che vai via senza zainetto vai allora chiamiamo il terzo finalista e leggo io la motivazione di Marco Petruzzi raccolti sotto il titolo il posto di lavoro i tre brani inversi e la prosa di Marco Petruzzi si presentano con uno stile maturo e originale l'intensa partitura ritmica sostiene le direttrici di un movimento interno esterno l'esperienza interiore di chi dice io il dipendente di un locale reagisce a un ristretto spazio di azione definito da elenchi di cibi e oggetti descrizioni di clienti e punta all'esterno attraverso la luce che entra dai vetri del locale la televisione che racconta la guerra e vende prodotti commerciali il cellulare di un cliente che registra una rissa mostrando un desolante quanto convincente quadro interiore e esteriore della condizione umana Marco Petruzzi una poesia solitamente gli schermi del locale trasmettono in continuazione partite di calcio o videoclip musicali invece questa volta l'immagine che raggiunge me di il cliente al tavolo è una donna che piange e si dispera in una lingua che non conosco ma il cui viso stravolto alla convulsione dei gesti traducono in un linguaggio universale un terrore che anche io anche noi da questa parte del mondo siamo in grado di comprendere la voce fuoricampo della giornalista spiega che la donna non trova più il figlio lo ha perso nella fuga verso i rifugi enterei temi si è rimasto in superficie esposto alla carneficina dei bombardamenti anche negli occhi dell'uomo che mi sta ordinando un hamburger con contorno di patatine fritte intuisco un disagio ed una qualche sorta di risentimento che non necessitano di essere verbalizzati per essere compresi un collega cambia canale l'uomo completa l'ordine ora l'immagine un'altra donna sorride ci vende un detersivo allora borsa con gadget però puoi anche stare qua perché il vincitore è Marco Petruzzi quindi ci do due pergamene una con scritto finalista e una con scritto vincitore e adesso lo obblighiamo a leggere un'altra cosa giusto? ha fatto dei commenti indecenti sul culo della collega nemmeno ventenne lui che di anni ne ha 40 o poco più la volta che ha portato il figlio al ristorante le ha detto di controllare che là sotto il bambino ha una minchia bella come quella di suo padre ma nel torpore di un pranzo deserto guardando dalle ampie vetrate nella luce che filtrava l'olivo costretto nel vaso all'ingresso del locale mi ha detto come trassognato che albero maestoso se penso alla distanza che ci unisce fa di noi di me della collega di questo disgraziato di suo figlio e chiunque altro esseri simili compresi in uno stesso nome dei nostri mondi irriducibili uno solo e uguale non vedo via di scampo ma abbandona la poca speranza che conservo grazie diciamo che è dell'università di Milano giusto ce lo siamo dimenticati Marco Petruzzi viene da Milano Ilaria Crocchini è di questo dipartimento e franciosi Diego franciosi tu l'abbiamo detto da musicologia vero? di Cremona cioè università di Pavia ma sede di Cremona per chi ha voglia di rimanere ancora con noi possiamo fare un tour della struttura vi facciamo vedere le nostre aule al quarto piano una capatina in biblioteca che è un posto meraviglioso dove poter studiare durante l'estate anche all'aperto nonostante in questo periodo stiano per iniziare il lavoro e quindi c'è un po' di sconvolgimento e se volete rimaniamo a disposizione per le vostre domande quindi per chi vuole rimanere con noi si avvicina alle studenti e se tutor che vi accompagneranno al quarto piano grazie a tutti per essere venuti in presenza per esservi collegati rimaniamo a vostra disposizione ci potete scrivere quando volete e vi aspettiamo qui per qualsiasi altra informazione appunto rimaniamo disponibili e per chi vorrà iscriversi ci vediamo a settembre e a settembre vi organizzeremo per voi una giornata in cui vi spiegheremo tutti i primi passi della matricola per entrare nel magico mondo dell'università grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti